è avvocato più che altro è il 2024, io te l'ho detto non ti sposare attento a quello che desideri io te l'ho già detto di là non ti sposare ma quanto è bravo, gli facciamo un applauso, è stupendo la mia amica ti amo ti chiede tanto, ma alla fine c'è tanta professionalità e sono veramente felice di condividere il palco con te una caramellina una caramellina, ma è piccante? è piccantissima ma io devo parlare la dobbiamo mangiare insieme facciamo cin cin non è piccante non dire niente guarda, in questo caso c'è anche Paolo che appena ti dai qualcosa lui dice, ma c'è neanche un veroncino? ma chi sei? è tua moglie ricordo non ho già perso i lumi guardami ti prego come i gatti mi segui in nero questo non l'ho capito come i gatti a gennaio quando si guardano e fanno l'amore non lo so, ne ho due quindi che fanno e fanno a gennaio che fanno? si guardano ma a gennaio secondo me dormono da dicembre e si sveleranno a febbraio se voi popolo piccante potreste nuotare come sto nuotando io nei suoi occhi sareste felici di fare il mio lavoro perché ovviamente io lo faccio per pochi sticcioli e stai bravissimo quest'anno 50 mila euro vanno da me bravissimo me ne vado qui e qua me ne sono fatti in aria per fare il viaggio di nocce ah, benissimo anzi, cominciamo a fare il viaggio di nocce poi faremo il viaggio di nocce ma facciamo il viaggio di nocce che roba, 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 non stai allora, abbracciati dai abbracciati per la foto scatenatevi